A pochi mesi dall'indizione del concorso, il Consiglio regionale del Lazio ha premiato nove bambini, autori di disegni, che hanno al centro il rapporto fra loro e i cavalli. La cerimonia di premiazione dei vincitori, tutti all'unni delle scuole elementari e medie della regione, ha visto la partecipazione di 250 ragazzi, insieme a rappresentanti delle istituzioni e l'ex portiere della Nazionale Italiana di Calcio, Angelo Peruzzi. Quattro i temi della competizione, il cavallo nelle battaglie, il cavallo nelle fiabe, il cavallo all'uomo e il tema libero. Il concorso ideato dall'Associazione Passione Cavallo ha introdotto quest'anno la speciale sezione creata con il patrocinio del Consiglio regionale e presentata lo scorso 13 aprile. La cerimonia è stata ospitata al Teatro del Parco della Pace, inaugurato in questa occasione e si è aperta con l'esecuzione dell'inno di Mameli. A premiare i vincitori con una targa vi era il Presidente del Consiglio regionale Mario Abruzzese, che ha evidenziato la finalità didattica del concorso avvicinare i bambini alle istituzioni locali. Una grande iniziativa, bellissima tra l'altro tutti questi giovani, questi ragazzi e ragazze che oggi partecipano ad un concorso che il Consiglio regionale ha voluto organizzare. Ma questo concorso non solo renderà e faciliterà un rapporto serio con l'animale, con il cavallo, vuole mettere in risalto anche un altro aspetto importante, un contatto più serio e concreto con il mondo istituzionale, con le istituzioni, con il nostro Consiglio regionale. Tra l'altro noi abbiamo già scelto questo segmento in occasione del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, di lavorare e confrontarci con il mondo dei giovani per far capire loro l'importanza delle istituzioni, ma soprattutto l'importanza dell'unità, l'importanza dello stare insieme e l'importanza di lavorare tutti per un unico progetto. Oggi questa manifestazione vedrà i vincitori di questo premio, un premio importante, un premio che rimarrà sicuramente scolpito nei loro cuori, perché il rapporto con il cavallo, l'animale forse più bello dell'universo con l'uomo risale a circa 1200 e la regione è una delle terre più antiche per quanto riguarda la presenza del cavallo a livello della nostra bellissima Italia. Oggi si prevedono, anzi si stimano circa 33 mila esemplari nella nostra regione e chiaramente con questa manifestazione si certifica ancora di più la voglia di coltivare questa grande passione e viverla insieme in un momento di grande libertà come oggi. Per il nostro territorio, ha continuato il presidente abruzzese, il cavallo ha anche una grande importanza sia dal punto di vista economico che in riferimento al ruolo sociale che svolge attraverso l'ippoterapia. Riguardo ai tagli agli antilocali previsti dalla manovra di governo, abruzzese è intervenuto sui contraccolpi che anche il settore della scuola e della formazione subiranno. Stiamo vivendo un momento difficile, particolare, soprattutto con l'approvazione di questa manovra correttiva che il governo ha approvato alcuni giorni fa di 55 miliardi di euro. È chiaro che questa manovra mette in difficoltà gli enti locali e le regioni e sottrae risorse importanti per quanto riguarda anche la scuola. Noi ovviamente per il mondo della scuola stiamo lavorando concretamente, stiamo avviando anche molte attività professionali per consentire anche l'avvio di alcune attività importanti che verranno ovviamente annunciate direttamente dall'assessore Sentinelli. Però, ripeto, questa manovra chiaramente metterà dura prova anche l'organizzazione strutturale del nostro sistema regionale.